salve a tutti ragazzi benvenuti in questa nuovissima puntata di robocraft hanno fatto un mega aggiornamento un mega aggiornamento hanno cambiato un bel po di cose come potete vedere i cubi esistono solo di forme diverse e basta non ci sono più livelli dei cubi quello più potente quello meno potente carbon e poi come potete vedere sono grigi tutto grigi in più hanno messo dei cubi nuovi altre forme questo questo qui che non so nemmeno come cacchio è allora quindi ne acquistiamo uno di questo uno di questo e uno di questo il cone e la piramide conferma acquistato non costano molti cubi tranne questi carbon che costano di specifica e alt 1109 un flop robocrank in questo è uguale però costano un botto perché così puoi fare il fico diciamo capito queste robe diciamo in più in più in più hanno di nuovo messo come cacchio si chiama questo è il linguaggio dove come l'ho visto l'ho visto play game edit robot vabbè qui andiamo a costruire il nostro robot vedete hanno messo il un affare che ti fa vedere il cubo sopra come lo piazzate e ad esempio se noi andiamo a prendere questo il cono ci fa vedere anche qui a destra come viene piazzato ok questo è il cono che è mezzo cono che poi se vogliamo mettere un altro dobbiamo fare così per fare un cono più grande ma adesso non ce l'abbiamo che ne abbiamo perché sono piramide è lo stesso solo che ha linee rette ok poi c'è questo che forse va associato al questo cono tipo così si va tipo associato a questo qui lo tolgo lo piazziamo così che fa si può mettere in questo modo e in più e in più ci stanno anche questi qua che come tipo per esempio vai qui e ti fa una cosa più arrotondata e questo poi che cacchio serve che che roba è a per metterlo a fianco mettere a fianco e magari qui continuare con un altro di questo e in più si preme di tasto 2 potete colorarlo vedete io muovendo la rotellina del mouse posso scegliere il colore tipo coloro questo viola questo azzurro questo viola più o meno vivace questo è un arancione e questo qui verde vai colori arcobaleno se premete il destro ve li colora tutti e tutto di un colore per esempio se volete uno sfondo nero fate così col destro un nero e poi andate a colorare solo quello che volete magari rosso tipo così volete questa linea rossa blab basta cosa così basta questo sono questi questi sono gli piccoli aggiornamenti dei cubi infatti adesso ne abbiamo un sacco ho distrutto tutti i miei robot perché ha detto che erano obsoleti li dovevo distruggere ma mi restano tutti gli rp che avevo speso e in più e ho visto e ho visto special cosmetic avevano cambiato un po la forma questa per aumentare la cpu era diverso prima era un altro tipo di sedia a proposito la sedia non c'è più del robot è vero non c'è più la sedia del robot non ci avevo fatto caso o si deve acquistare scusami no no non c'è più la sedia non c'è bisogno di più della sedia non c'è bisogno più della sedia del robot credo poi in più puoi acquistare vedete sono sempre grigi tutti quanti potete acquistare anche le versioni carbon come una volta perché non si possono prendere con gli rp ma solo acquistare le mega laser carbon e top laser disegnator carbon che sarebbero i smg tier 10 va adesso non c'è più il tier o il tx tipo mega plasma plasma devastator si chiama il devastator che serve quello più potente a eccolo qua da qui andiamo nel tech tree hanno rimesso il tech tree quindi chi inizia adesso da capo deve sbloccarli man mano e non so cosa come come si sbloccano non ne ho idea forse col ranking in automatico dovete spendere prima c'erano le stelline una volta quando inizia a giocare secondo le stelline potevi sbloccare man mano tutti i cubi e poi acquistarli quindi il mega poi viene mega plasma il mega mac league vediamo poi come si chiama gli altri vabbè poi le ali ok nanoconstructor ok plasma devastator cioè plasma che sarebbe il t10 di una volta quello meno potente non esiste più allora l'hanno proprio tolto no ci sta plasma reveger revanger o cosi chiama revanger e c'è un altro ancora intermedio ah bombarder e via dicendo io avevo quasi parecchi plasma diciamo infatti ci stanno ancora però fortuna da me le mette in ordine tipo plasma push a ben zero questi 4 questi 12 effettivamente questi qua non li potrei vendere questi piccoli per esempio non li potrei vendere sell si cacchio me ne faccio me le vendono anche questo se schiaccio ctrl si va li vende tutti a massimo tre alla volta vabbè confermi vendi fa niente io me li conservavo che tanto che cacchio me ne importa qualche volta volevo fare qualcosa di 9 di questi 16 di questi vai vendi tutto conferma così me li potrei anche vendere tutti fortunatamente però me le mette in ordine quindi io posso mi sa che ho venduto quelli buoni top laser si ho venduto quelli buoni questi sono i t10 quelli che ci serviranno vabbè poi li acquistere però se li vendi li vendi a poco prezzo perché tipo questo acquista per acquistarlo servono 213.233 se lo voglio vendere mi danno 106.617 ho sbagliato qua consumerò dei soldi adesso per comprare questi qua vabbè non fa niente non fa niente allora hanno messo di una tech 3 e il robot rank viene visualizzato sempre in alto qui dove sta anche la cpu beh qua selezioni robot mi hanno tolto un garage non so perché adesso facendo così me lo ridà ah perché forse mi hanno dato il gc boh non lo so play game ci sono gli stessi the pit that match language questo è un altro no sì perché noi facciamo questo questo the pit questo è un altro bello questo non lo sapevo qui però non abbiamo robot e quindi in automatico non ci fa vedere niente ho premuto un tasto per un altro e si è tolto il game cioè da me da voi non si vede però da me si è tolto il game allora allora questo mega aggiornamento si deve vedere di nuovo marte non so forse le impostazioni settings ho messo quality faster mettiamo fantastic ok dovrebbe andare adesso lui sta cambiando tutte le impostazioni ho messo al massimo si ho ritornato al faster perché comunque quando registravo in estate il pc si riscaldava una maniera incredibile che in automatico la scheda madre abbassava le prestazioni del computer e cominciava ad avere problemi adesso ritornando l'inverno va tranquillamente quindi proviamo velocemente a fare qualcosa allora facciamo così facciamo così movimento 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 poi magari io volevo fare il tricottero volevo far vedere come l'ho fatto perché a me li fa mettere perché poi a me li colore direttamente rosso se io non voglio rosso se li posso mettere pure attaccati così no così no mettere un punto più distaccati così questo va bene adesso qua li posso alzare come prima? si ottimo allora alziamo e da qui facciamo il nostro tricottero la nostra base però adesso vorrei fare un modo alquanto diverso non uguale a quello di prima e almeno cambiamo un po' allora ci facciamo un cubo sotto perché qua facciamo tutte le protezioni laterali e voglio 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 fare una cosa carina e coccolosa allora per prima cosa si ho messo la zeta per costruire in mirror cioè a specchio poi 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 faccio così no sempre questo ci metto questi sopra così mi vado a mettere un altro cubo qui ci metto così e qui ci schiaffo i cubi in questo modo qua magari iniziamo ad usare i nuovi cubetti questi qua ci metterei allora acquistiamo un bel po' 10 vai acquista voglio fare lo sborrone 10 e ci andiamo a mettere magari questo qua così carino eh così è davvero fighissimo fico gu diciamo anche qua per esempio ce lo potremmo usare per proteggerlo diciamo perché tanto alla fine voglio fare una cosa così abbiamo finito questi cubi qua va bene le togliamo poi poi vedremo poi vedremo in seguito per esempio qua adesso non andrebbe bene un cubo andrebbe bene tipo questo qui no così è proprio del tutto mettiamo un altro di questo qua ma manco tipo questo fai vedere eh sì no perché sì sopra va bene ci va bene ci va bene ci va bene una cosa così ah è quello lì piccola poi dovrebbe andare tipo qua eh sì qua così per chiudere tutto il ripiano qua in questa zona qui si va bene così però adesso non lo metto anche dall'altro lato perché non ci sta quindi io li toglierei poi li acquistiamo e vedremo e vedremo allora poi da qui voglio fare una cosa angolata che va a stringersi fino ad arrivare a questo centrale allora noi con lì abbiamo messo sempre un cubo sotto e tiriamo una linea in modo che ci rendiamo conto ok una bella linea posso cambiare il colore ah è perché io ce l'ho senzionato rosso se io metto così e lui mi mette i cubi neri che figo che figo allora 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 hanno pensato a tutto ma non hanno pensato a una cosa se voglio fare le cose laterali trasversali no laterale trasversali non me li fa fare cioè ci stanno solo piramidi però col nero non si vede tanto bene sai quindi se mettiamo il bianco questo non è nemmeno bianco questo così col bianco si vede di più io direi di costruire col bianco e poi passiamo altro vabbè facciamo come abbiamo sempre fatto poi vedremo successivamente come abbellire il tutto allora se poi lo vogliamo rinforzare non lo possiamo rinforzare qua vabbè togliamo questo e facciamo un'altra cosa poi vedremo poi poi vedremo poi voglio fare una cosa così io voglio mettiamo un'altra ancora e poi i cubi vai ah copia anche il colore quando lo prendi dalla sfizie quindi man mano stiamo scoprendo come funziona questo nuovo modo di costruire di colorare però sai non è tanto bello vederlo in questo modo perché comunque è largo io pensavo che veniva più stretto però alla fine non è non è che poi mi piaccia così tanto allora togliamo questi qua che al momento danno un po' fastidio poi 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 qua dietro andavano i mega cominciamo a mettere anche quelli andavano i mega e per unirli io usavo una cosa del genere facevo una cosa del genere così mettevo questi mettevo uno qua e uno qua e giustamente adesso questi qua andavano collegati a tutto uno due uno qua in questo modo questo lo togliamo ci andiamo a prendere i prisma facciamo una cosa carina e coccolosa come sempre così e così effettivamente qua viene un po' scoperto perché ci sta questo e non possiamo chiudere effettivamente io questo me lo tolgo mi vado a chiudere proprio in questo modo così mi viene troppo vengono troppi cubi qua dietro e qua è troppo debile sì una fila non va bene questo lo so è sicuro che non va bene così quindi 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 va tipo si fa una cosa così dove l'ho messo così e qui si va a finire di chiudere in questo modo questo qua non va bene ci vuole un cubo perché altrimenti non viene collegato con questo questo lo tolgo e qua è vero che è più leggero però comunque un po' debole è un po' debolino ma se ce ne potremmo mettere un altro laterale così però per adesso lasciamo così per adesso qui giustamente viene rafforzato anche qua però avremo anche modo di mettere altri smg qua sotto essendo così largo avremo modo di mettere altri smg allora di qua lo allunghiamo che è ancora lusso questo così è tutto collegato forse perché tocca qui no non ci succa niente vediamo se me lo fa provare vediamo se me lo fa provare test robot non me lo fa provare no me lo ha fatto provare sembrava di no ma adesso si vediamo 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 quindi adesso chissà quando andremo in battaglia cosa vedremo colori assurdi robot stranissimi mi sa ok allora cambi di di guidabilità non ne hanno fatto diciamo bene o male i robot guidabili lo stesso lo sparo dei mega e anche questo è lo stesso e dobbiamo vedere un po' con i thruster come si comporta eh un'altra montata i thruster vediamo pure un po' come si comporta back to mothership hanno cambiato anche un po' il menu prima era molto più grande adesso è più piccolo come velocità e io vedo che è quasi sempre la stessa devi sempre comunque aspettare che si connette al server calcola le sue cose però adesso adesso qui adesso l'ho notato questa pistola porta anche il numero dei cubi che noi abbiamo quindi noi ci possiamo rendere conto in qualsiasi momento quanti cubi abbiamo tipo se ne mettiamo l'altro qui e comincia a scalare bene allora se noi andiamo a prendere movimento per esempio ci andiamo a prendere i nostri mega thruster mettiamo qui schiacciamo z per metterli su entrambi i lati ci dice anche quando ne abbiamo se ne abbiamo solo un altro e noi ce lo andiamo a mettere qui sotto no per esempio questo ce ne abbiamo 26 proprio numeri assurdi due qui non vanno bene sono troppo grandi bla 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 troppo ok io adesso voglio vedere la velocità di thruster c'è di schiaffo tutti quanti qua sotto tutti quindi tutti qua sotto così da essere veloce bellissimo proprio estremamente voloso quindi il laterale non lo possiamo mettere comunque lo faremo qualcosa laterale qui per mettere altri thruster in dubbio ecco adesso c'è uno e un altro mamma mia quanti thruster sto mettendo le aveva dato prima e adesso me l'ha tolto scusami qua sotto no le posso mettere si uno e un altro vai ne ho ancora altri 16 però fa niente vediamo così come va quindi test test robot vai vediamo se hanno aggiustato un po' la velocità dei thruster perché prima potevi metterne quando non ne potevi mettere hanno detto che hanno aggiustato se metti più il thruster era più veloce ma in realtà comunque dovevi aspettare che aumentavi di di overclock eh parliamoci chiaro non è che cambiava chissà che no dai sicuro che hanno modificato un po' qualcosa la gravità non lo so si effettivamente ecco se non metti bene i thruster perché sono tutti sotto allora ti spingono verso l'alto e come inizia a girare che si ci ballotta il robot inizia a girare su te stesso aumentiamo di overclock adesso deve essere molto più sensibile allora faccio solo barra spaziatrice per livellarmi è forte fortissimo troppo forti però comunque si rigira allora se io spingo verso l'alto dovrebbe non ce la fa gira 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 quindi dobbiamo fare anche attenzione come posizioniamo i nostri thruster se li avevamo messi tutti laterali come quelli la super non lo faceva perché bene o male il baricentro è stabile noi li abbiamo messi la maggior parte dietro e sotto quindi danno una spinta verso l'alto e si quindi dobbiamo fare attenzione anche a questo è diventato un po' più difficile mi piace così in modo che tu devi calcolare bene dove metti i tuoi thruster e mi garba tanto questa cosa quindi io direi che per questo episodio è tutto per queste novità prossimo episodio inizieremo a fare questo nostro mega robot partirò da questa base e non vi perdete il prossimo episodio da Zerk è tutto ah un'altra cosa molto importante c'è un mio caro amico che sta aperto un canale e sta iniziando a fare delle intro se volete delle intro gratis andate sul suo canale che è quello di Infinity Luca penso che chi seguiva anche le serie su Minecraft lo conosce già poi c'era le serie Minecraft con me comunque si sta sta imparando a fare le intro fate le intro davvero fighe ha fatto anche qualcuna per me infatti devo vedere quanto prima di scaricarmela magari così ve la farò vedere è davvero bravo quindi vi invito a passare anche sul suo canale io vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale ci vediamo in un prossimo video da Zerk è tutto ciao ragazzi